Ciao a tutti, vediamo questo spettacolare tiro di dama internazionale muove il bianco, potete stoppare il video se volete provare a risolverlo non è semplice, però se volete provare stoppate il video ecco la prima mossa del bianco, 32-28 è indifferente da che parte, con quale pedina mangia il nero poi c'è la 35-30, qui il nero deve catturarne 2 quindi 25 per 45 dopodichè c'è la 39-34 il nero deve catturarne una, 16 per 27 ora il bianco sacrifica 36, 27 per 36 altro sacrificio 47-41 x 44-40 il nero deve catturare di dama e il bianco ne cattura 5 ora il nero deve catturare 45 per 34 il bianco a sua volta effettua la presa multipla ora la 46-43-38 per concludere e c'è il tiro a 4 chiaramente adesso il bianco è a dama e vince il match e c'è il bianco a sua volta effettua la presa